Musica Bella a tutti ragazzi, siamo qui oggi nel mio canale per un nuovo episodio di Bioscale Runder 12.0 Allora siamo qua ragazzi, su Ghost, per cambiare, e vi porterò sempre due partite, magari dopo varieremo, ritorneremo su Black Ops 1, su Black Ops 2, MV3, eccetera. Comunque sì, partiamo. Allora, io uso Lonnie Bodger, come rinno termico. E, di solito la si mette in me, eccolo là, perfetto. Express, motherfucker. Ok, first kill, quello là si viene fuori male, lucidiamo. Andiamo per il di qua. Grandissimo, grandissimo, G-Costar 13. Dai, dove cazzo corre questo? Ma dai, ma... Ok, è morto. Grazie. Non fai correre per niente. Non fio questo qua. Con ogni squadra. Prendiamo l'L100, eh? Comunico termico. Quella si vuole morire. Ma dai, che ti ho preso? Ma stiamo scherzando? Ma finalmente... So. Porca puttana. Giuro, dopo prendo... Il mio cecchino, eh, Link... Links, Link, eh, un altro genere. Comunico termico e facciamo serie di quick scoop, ragazzi. Facciamo all sniper. Adesso vediamo quando prenderlo. Questa è la prossima morte, vediamo. Cazzo vuole fare quel... Ancora? Dai, vieni fuori. Dai, figlio di puttana. Bravo. Bravo, vedi che ci capiamo dopo un po'. Guarda, c'è spuglio, dov'è? Proprio dove vanno le piante? Cioè, vicino... Sopra il tetto, là. Al sole. Cioè... C'è sta gente. Madonna santa, che due coglioni. Adesso mi fa incazzare, sta roba. Porca vacca. Approvvigionamenti nemici in arrivo. Comunque ragazzi, scusatemi se in questi giorni non ho fatto video, ma è che ho fatto... Madonna santa. Porca vacca, adesso con un cecchino. E se non ho fatto video è che sto facendo una cosa che vi dirò più avanti. Sempre riguardante YouTube, sempre riguardante i videogiochi, ma vi dirò più avanti. In caso venga pubblicata. Attento qua col cecchino, se c'è qualcuno, magari. Dai... Dai Grifon, ma... Perché ce l'ho con me? Porca vacca, non te ne puoi trovare un altro andare ad osso. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie, sei sempre il mio cuore Grifon di merda. Grazie mille. Allora, partiamo col dire che i cecchino sono una grande... Oh! Una grande cosa. Infatti, Hitmarker è uno che... Non so che sarà di averlo preso, mepp. Ok. E poi... Col cecchino, bisogna stare a camperare, no, andare in giro, però... Ti rompiamo per di qua. Vediamo se c'è qualcuno. Se ce ne vanno davanti in teoria. Ok. Grande. Grandissimo, quickscope, ragazzi. Fa culo. Certo, saprei anch'io andare sempre in giro con l'honey budger, là, camperare. Sono capaci tutti. Quella è la propria armi preferita. Voglio farne un po' di sfide, o di... Tanto, mi stanno già facendo sclerare quel coltello, là, eccetera. Che mi sta proprio in culo. Grande. Ma porca vacca, dai. Perché lo uccidi te? Questo qua. Porca vacca, l'ho ucciso anche quello. L'ho ucciso tutti voi. Sto fermo io. Vai. C'è Spuglio. Dove vai? Io e te abbiamo un conto in sospeso. Dove sei? Dove sei, C'è Spuglio? C'è Spuglio. Grazie. Ho guardato prima e non c'eri. Ti teletrasporti? Sei una pianta carnivora. Uccidi tutti. Dov'è? Quello che l'ho ucciso. Ma che cazzo è? Si sta facendo fuori tutti. Porca vacca. Segnala, ma io non lo vedo, porca vacca. Buh. Buh, ciao. Grazie, camper. Sei un mito. Stai là, camperare. Ancora questo cocotello. Madonna santa. Quanto che mi sta in culo. Quanto ti odio, cazzo. Grande. Danico, stratrice. Non si nasconde nessuno. All this, sniper. Dai, madonna. Vieni fuori. Dai. Dove sei? Devo sempre venirti a cercare io. Dove sei? Ti nascondi qua come l'altro tuo amico? No. Bene. Un culo di merda. Cioè, io proprio, appena mirano, cado io dal cielo proprio. Ho detto... Eh, ti ho preso. Ancora? Ma basta! Porca vacca, quanto che... Che ti odio. Madonna. Madonna. Mi stai proprio in culo. Ma tanto anche. Tanto. Mi stai proprio in culo, porca vacca. Grandissima, shubits. Ancora. Porca vacca. Adesso mi stai facendo cazzare, va. Porca troia. Grande. Grandissimo. Ho, ho, ti sta bene, porca vacca. Ti sta bene. Umiliato all'ultima decisione, porca vacca. Ti sta bene, figlio troia. Boom. Comunque ragazzi, abbiamo finito la partita. E appena comincia la prossima, ci vediamo là. Eccoci qua ragazzi. Allora, abbiamo appena iniziato la partita. Cioè, appena iniziata, sta ancora caricando. Siamo sul strike zone. E siamo pronti per chiamare magari una possibile cam. O vediamo il da farsi adesso. Vediamo cosa ci proporrà la casa. Partiamo subito col nostro Onibodger. Motuliamo tutti intanto. e si parte Forza, forza Nico Starr. Poi portiamo eccolo qua, primo secondo, grandissimo, due di fila, double kill. C'è qualcun altro? Eccolo qua. Oh, cazzo, meraviglio. Dove fa niente? Continuiamo così. Credo che mi abbia fatto screare abbastanza quello col coltello. Speriamo che non continui. Ok, una qua, perfetto. Perfetto. Perfect. Qua. Culo. Dai, che cazzo, ti fermi? Vai avanti. Surprise, motherfucker. Che cazzo camperi là? Cioè, si fermano negli angoli, stanno là fermi tutta la partita? Madonna, che camper. Questo qua non è un camper, proprio. No, come va, c'è un alleato. Faccio qualcuno. No, cazzo. Ho tutto il tempo di uccidermi. Andiamoci qua, faccio qualcuno. Nothing. And, and, anybody. Sprozzma, fuck. Non mi interrompettere, non mi interrompettere. Sto parlando. Cazzo. Da fastidio. Dov'è a fare in culo. Sta andando molto bene la partita, direi. Molto bene. Per modi, vi riesci a tenere. Colla, un piloto. Perfetto. Pronti. Andiamo a sapere di qua, vediamo se c'è qualcuno. Bellissimo. Da dietro. Quanta carne a mocello, signori. Quanta carne. Sfamiamo i poveri con questo. Grazie. Grazie mille. Grande. Vendicati. Non parlare. Concentrati, mi costa al cazzo. Lì dietro. Mettiamo qua l'esplosivo. Cazzo. L'ho ucciso. Grande. Grande. Occhio. Porca vacca, l'avevo visto. Eh, ho la mania sempre di caricare appena... Uccido una persona. Surprise, 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 surprise. Surprise, motherfucker. Anche a te, perché spari ai... Ai giubbotti antiproiettile. Questo qua va a fanculo. Abbiamo il cane. Damogli il nome. Jack, dai. Nostro cane lupo. Bravo. Sbrana sempre. C'è un mito. Ultima uccisione. Lasciamola a me. Fanculo. Vabbè ragazzi. Abbiamo finito. Per oggi è tutto. Spero vi sia piaciuto il video. Se è stato così allora... Vi ricordo sempre lasciare un bel pollice di su. Di commentare. E... Discrivami con adesso se l'avete ancora fatto. Qui da... Nikostar13 è tutto. Ci vediamo alla prossima per un prossimo video. Bella a tutti ragazzi. Bella. Ciao.